La settimana della mobilità sostenibile rientra nei progetti di questa amministrazione comunale che intende incentivare la mobilità dolce, ovvero quella pedonale ciclabile, curando le piste ciclabili e magari facendone delle nuove. Assessore Curzi, qual è comunque il programma di questa settimana che ha molte iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini? Il programma del Comune di Fano che ha organizzato assieme a Tecfem si trattano di cinque giorni, tra i quali tre giorni sono organizzati dal Comune di Fano, cioè i primi tre, lunedì, martedì e mercoledì. Giovedì e venerdì è organizzato interamente da Tecfem. Ci sono eventi all'aperto e ci sono eventi al chiuso, dove speriamo che le attività riusciamo a farle tutte, anche perché non ha messo buon tempo. Il programma comincerà da lunedì, la presentazione alle 17.30 in piazza, dove sarà presentato tutto il programma della settimana, ci sarà un minibus a disposizione per delle visite guidate che partirà dalle 18.30 e ci sono a carico di Manuela Palmucci che ci farà visitare i monumenti di Fano. Martedì ci sarà subito l'educazione stradale a Sant'Orso con i ragazzi della scuola media Montesi e della scuola elementare, in collaborazione con la polizia locale. Mercoledì ci sarà un tavolo tecnico con la città dei bambini alla sala Don Paolo Tonucci al Vallato, dove ci saranno tutte le persone che aderiranno. Faremo questo tavolo tecnico per individuare delle criticità che ci sono e per risolverle. Riguardo all'evento di Tecfem, che ci sarà giovedì e venerdì, Tecfem ha voluto centrare l'obiettivo della settimana europea della mobilità sostenibile in quanto il tema dell'anno è riconvertire uno spazio pubblico o parcheggio in un'area ecologica, un village. Quindi prenderà il parcheggio di Piazza Miani giovedì pomeriggio e lo convertirà ad un village dove ci saranno degli stand che vendono biciclette, attrezzature per biciclette e tutto quello che gira nel mondo della mobilità sostenibile. Assessore, uno degli impegni della Giunta è quello di rifare il PUT, il piano urbano del traffico. A che punto è questo disegno? Allora, il PUT ci stiamo lavorando con gli uffici, stiamo individuando delle aziende per assegnargli il PUT. Il PUT sicuramente sarà molto attenzionato alla mobilità sostenibile in quale la promessa elettorale del sindaco ci siamo impegnati ad avere un'attenzione importante sulla mobilità sostenibile e sicura non disegnando una pista ciclabile a terra senza nessuna protezione. Noi il nostro obiettivo è mettere in sicurezza pedoni e ciclisti sulle nostre città. Certamente, ove non ci sono spazi dove mantenere il doppio senso e fare una ciclabile, opteremo per dei sensi unici. È vero che anche uno dei grandi problemi sono i parcheggi. Quindi dovremmo essere sensibili a non sacrificare i parcheggi, a mantenere la viabilità e realizzare piste ciclabili pur mantenendo tutta la sicurezza. Quindi è una cosa molto importante che tutte le cose devono andare dalla direzione giusta.